bella a tutti ragazzi, bello di questo nuovo video, sempre con Len, sempre in questa custom map edge, entri ragazzi, per ora dai, per ora non lo so com'è, se è carina, si dai, dai è carina, sono solo io che per 6 anni, ma, ah no, ok, cosa è questa cosa, ok, vieni, dove sei, non ce la faccio a salire, come non ce la fai, io sono avanti, è perché io sono, io sono noob, bitch, io sono pro, del, 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 del. Ah, non me la sale, ci riuscirai prima o poi, figuola, ma da dove devo saltare, madonna, dai, io, io faccio il salto, e mi appendo al tubo, eh, ok, adesso vado là, no, ma sono uno scemo, sono uno scemo, ragazzi, facciamo a chi arriva prima, dove mi ha spawnato, dove mi ha spawnato, dove sei, là, non lo so, Devi seguire questa cosa in rosso, io sono qua Ehm, alè Dai che sto andando avanti per lo scemo Ehm, e ora? Dove si fa? Ok, scendiamo da qua, e saliamo di nuovo, che cazzo è? Boh, io non so, non lo so, dove sei tu? Io, io non lo so, dove sei tu? Io sto salendo il grattacielo Ah, eccomi, qua, 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 dietro lì, c'è qui, ciao Dai ora? No, di qua, di qua, vieni, vieni Adesso Ah, ciao E di qua che sei, no, 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 mi stavi chiedendo fuori Escrivamo Torta, mangiamo, mangiamo Cos'è sta cosa? No, alcuni ho scoperto essere letti ogni tanto Ah, ma sono letti? Alcuni sì No Ehm, credo che dobbiamo fare così No No, ti busto, ti busto, vai qua Aspetta, aspetta, per sé Di qua si può salire poi Credo di sì, vediamo Vai Sì, una volta che sono qua che facciamo, ciao Stiamo facendo il giro intorno Ah, aspetta, aspetta Sono un genio Mamma mia Ehm, qui Looooool Qui? Secondo me stiamo facendo di tutto, tutto No, 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 aspetta, aspetta Non posso Stiamo facendo tutto, tranne Seguendo la mappa Può anche essere Queste sono torte No, sono rette Ok, io sono qua Ma questo cos'è? Boh Bam Dove sei? Allora Comunque Dai, è carino Dove sei? Sì, è carino Però non sappiamo dove andare adesso Ah, qui, qui, qui Vieni, vieni, vieni Ci sono tubi Da là siamo venuti Sì, ma c'è un tubo Quindi, tipo Qua Ah, yeah Giusto, giusto Servirà per saltare E a me non mi torri più Vaffanculo Vabbè Vabbè Devo mangiare per forza le mere d'oro Perché, se no, qua Scettiamoci, tipo, con lo stack di giubo Tanto Non credo sia un problema Oh Ho trovato tre lapiscaccazzoli Ma dove? Ah, però non posso pigliarli Ah, perché? Non lo so, non me li dà Speriamo che non dura tanto questa serie Eh, speriamo di sì Altrimenti ti va Io sono salito sopra Arrivo Una morte di Oh, io sono già dall'altra parte Arrivo Madonna, ma di quella che ce l'ho Ah, attento Oddio, che cos'era Aiuto Oddio Oddio No, 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 non vale Però mi ha lasciato quella zona Casi tua Io me ne vado No, no, no Non riesco ad entrare alla porta Non riesco Non riesco Oddio Oddio Aiuto Oddio Aiuto Oddio 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 Aspetta aspetta io l'ho trovata Ti devi buttare giù C'è tipo un buco Ah vabbè tu sei finito fuori dalla Ok c'è tutti quelli che mi stanno seguendo E sto morendo male Ok ok io ho trovato la stessa invece Dove dove Mi sono buttato E poi salendo le scale Oh mi ti sei buttato Lo sto ponendo Oddio Aiutami da dove ti sei buttato Non lo so ma ho sbagliato strada Da qua No da qua ci vuoi Si 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 qui 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 No giù non lo so Io ho trovato una porta Siamo vicini vedo il tuo nome Ma dove cazzo sei io Qui 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 Sali 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 Ma dove sei No scendi 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 Buttati buttati giù Eh porca porca Dal centro C'è c'è tipo dal centro Qui qui Eccoli sali le scale Oh non sono morto Quando sei arrivato giù o sali le scale Eccomi Noo bellissimo Ti sto laggando Che bello Noo bellissimo Mi piace un sacco Dove devo andare Io non vedo Eh ci No Ah C'è qualcosa Io scolo i tubi Ci sono i tubi Ah Io sono morto Adesso io sono qua Wow Dobbiamo scendere Ci sono altri tubi Aia Basta cadere Qua ci sono altri tubi Però portano giù Oh Sì 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 No Dove sei? Sono caduto Ma dove dobbiamo andare? Eh E non lo so Credo che dove stavi andando tu è giusto Ah Perché? Ok Io sono sceso e sono risalito Eh esattamente Perché non c'è niente È esploso qualcosa o sbaglio? Ah io sono salito Però dove devo andare adesso? Eh Se riesco a salire Ok No no Provo a scendere Oddio Non lo scendere Lol E' tutto convinto Oddio Provo a scendere Grande Io non la capisco sta mappa Io capisco solo che sto cadendo in continuazione Che se apri la chat smunta solo È caduto No Allora aspetta Provo a salire Anche io Ma siamo sicuri che stai vedi qua? Sì Qui ci sono C'è un altro tubo qui Ma dove che non l'ho visto? Sali Qua Ma va fangool Io però sono caduto E non lo può pigliare mai quel tubo Ok Ho capito come si ci va Dalla Dalla ringhiera Starbuck Arrivo Che cazzo sono caduto Forse E beh lo arrivo E mi vado a spiace In the terreno In the vagina Io sono salito Come si salito Dalla ringhiera Dalla ringhiera Sì ma come? Saltando Sì ma come? Ah No sono caduto Ecco L'ho overflyata di troppo No 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 Stavo uscendo dal server Dai io non ci riesco Non uscire Se non ti ti ammazzo Oddio Ciao Mi ha portato qui da solo Che bello Io vado all'altro lato Sono ricaduto Grande No qui c'è un niente No non c'è niente Ciao Io ho pensato la stessa cosa Però io ho vinto Tu no Ma io volevo C'è capito Volevo fare un batticino Allora Ah Cazzo E ora Oddio no Hai capito Cosa devi fare Sì Che cazzo È impossibile C'è allora Quello che devi fare Non è Spingermi avvio Ah ok Spingo No Per poco Eh anche io Non devi saltare Diretto Cos'è C'avevi tipo Un unicorno In testa Vaffanculo Delle droghe La droga E io cado Tra l'altro Oggi non si sta sentendo La tastiera Da donna mia Vai L'ultima prova E questa E chiama Così Così Ma non abbiamo fatto niente Eh no Ma già 10 minuti Sono passati Che ci posso fare Oddio Dì già Eh sì E poi per renderizzare il video Con il mio computer Di me Ci sto con 80 ore Tipo ieri Sì Ma da un'ora e mezza Ci sono stato Per renderizzare un video Di 10 minuti Io sono dentro Io no Ah ok Vabbè A me mi teletrasporta Calma Arrivo Dove sei? Oh Salve Le persone Lo sono rotto Dove sei? Excuse me Non volevo romperle Dove sei? Aiutami Io sono nella trave Aia Io c'ho tizi Che mi inseguono Eh sono tipo Detroite 12 forza ero Detroite Cioè una volta Ora no Ah bello Ma io dove sono? Cioè perché Ghi tanto mi spavano Dove sei? Ti spavento Oddio Questa Oh no vabbè Dopo ti devo dire una cosa E ora? Nooo Ti vedo da sopra Ma qua c'è una Sto rompendo Eh no Lasciala Questo serviva Per chiudere le porte Cioè per aprirle Scusa Dio Ok Allora Oh io ce l'ho fatta Vai Arrigni pure tu Stacchi un video Dai Eh Questo È un problema Staccato Sei grande Dai Arriviamo Dai Basta che arrivi tu Ecco Dai Aspetta Che tu chiudi Sei arrivato Adesso Posso concludere il video Ok ragazzi Queste sono le magie Queste sono le magie Di Le bestie Anzi Di Italian Gaming Scusatemi Bella a tutti ragazzi Benvenuti No perché benvenuti Questa è la intro Vabbè Ok ragazzi Con questo video Da noi è tutto Ci ritroviamo In un prossimo video E Addio Ciao Ciao a tutti